Il programma dunque avremo come filo conduttore lo schiaccianoci di Tchaikovsky dove appunto ci saranno i danzatori, le ballerine e i ballerini delle scuole della regione capitanati appunto da Doriana Comar, ci sarà Alberto Olivo al pianoforte, Giada Visentina al violino, Kimi Kayama Ghiwa mezzo soprano, Claudia Maviglia soprano, i bambini, i piccoli cantori della città di Trieste e l'orchestra del Friuli Venezia Giulia, sarà con noi, quindi avremo diciamo un programma molto vario che comprenda il più possibile tutte le arti che vediamo in scena, il ballo, il canto e anche la recitazione perché la nostra Danila Ferletta che condurrà la serata ha introdotto anche la recitazione in questo spettacolo.